Allora per quanto è difficile cerchiamo di fare un'analisi un po' più completa e dettagliata del match Perché comunque cerchiamo sempre di provare a parlare di calcio Subito il Toro è partito ed è stato un attimo sorpreso dal loro pressing, dal loro cattiveria E non ci hanno fatto tenere palla, questo l'abbiamo partito Cioè giravamo male senza palla e questa è una caratteristica tipica per noi Spalla alla porta non difendeva nessun pallone, escluso Zapata Sanabria non li difendeva Vlasic non li difendeva, Linetti un po' non li ha difesi E' strano, davanti il tridente era largo quindi Vlasic, Zapata e Sanabria erano larghi e mal collegati, sconnessi Quindi questo ha creato fin da subito qualche incomprensione che poi la parla nel corso del match La sensazione è che loro hanno corso il doppio e questo poi lo andiamo a vedere con le statistiche Linetti in fase di possesso quando andava a pallone non si abbassava come il solito e non trovava lo spazio Bene perché loro subito andavano ad accorciare quindi non si allarcava bene sui braccetti Cosa che lui fa bene ma non con queste squadre fisiche qua Sanabria è partita orrenda Già al primo tempo però quando si è andato in aria è pericoloso Il problema è che ci arrivavi poche volte e hai subito anche tanto, hai subito anche troppo La colpa che diamo grave a Juric è che tu sei entrato in campo senza avere il contromiso Quindi non l'hai lavorata bene perché hai tenuto poco palla rispetto al tuo solito Come mai non si è andato a recuperare palla? Non hai vinto né aprire palla né seconde palle E soprattutto non hai saputo cambiare Non ti dico, non hai saputo cambiare a livello di uomini perché loro cambiano e segnano Tu non hai saputo cambiare a livello di uomini ma non hai saputo neanche cambiare, adattarti Ma fin da subito non avevi un piano pronto già al ventesimo quando la partita era diversa da quella che ti aspettavi Passi con la difesa a 4, questo 4-2-3-1 Ma non lo sai fare bene perché ovviamente non l'hai mai fatto Quindi i difensori poi si muovono come a 3 Buongiorno si sganciava eccetera eccetera Esterni larghi, quinti, braccetti con troppo spazio Tanta confusione, tanta tanta troppa confusione da questo punto di vista qua Secondo tempo abbiamo giocato paradossalmente peggio del primo Troviamo il gol, iniziamo a giocare bene e poi lo riprendiamo Cioè nel gol subito Vlasic non aggredisce Le lascia un metro Poi mi venite a dire che Vlasic è forte in fase di... Fa tanto lavoro in fase non possesso Ditemi dove perché qua devo ancora capirlo Ricci trova male il tempo Partito la regna di Ricci un po' A parte dal centrocampo nei loro due centrocampisti che si muovevano E Linetti arriva in ritardo a chiudere e non gli dà nessuna falciata Non è possibile che il loro peggiore attacco ci siano i tre gol E quando è così meritino andare in Europa Soprattutto tu che sei la difesa, tanto sbandierata eccetera eccetera I cambi però quando tu prendi il 2-1 vanno fatti subito Perché a te il pareggio non basta se vuoi arrivare in Europa Devi farne due, quindi se devi fare due gol E hai così poco tempo devi subito buttarli dentro Erroi grave di Bellanova Questo è chiaro Peggiore apprendita da quando è il toro Comunque lui ha fatto un'ottima stagione quindi non gli si può dire nulla Mi viene in mente una cosa in Sanabria Su un cross di Zapata Non mi ricordo che lui si sposta per far passare la palla a Bellanova Ma io non ho mai visto un grande attaccante Tipo Pippin Zaghi che si è cercato di lasciare la palla al braccetto Al quinto, all'esterno Un attaccante lì la palla la stoppa e prova a segnare Cos'è lasciare sta palla? Sanabria è l'altra partita orrenda E quando è così giochi in 10 E non va assolutamente bene Secondo tempo è partito dove noi tanto bassi Avevamo quasi parola dell'uno contro uno Caratteristiche che noi giocavamo Loro avevano molto più foga, molto più cattiveria eccetera eccetera Ed è una partita che hai perso di testa Hai perso di testa perché Hai giocato bene 10 minuti su 100 E i due gol li hai trovati In quei 10 minuti Ma il bilancio di 90 non hai avuto la testa collegata Errori Ovviamente parliamo del portiere ragazzi Scarso, scarso, scarso Io l'ho sempre detto Chi lo difende? Eh ragazzi purtroppo C'è chi vive di calcio e chi no Ma vabbè questo è un altro discorso Cioè come si fa a difendere un portiere del genere? Lo sappiamo già Diciamo le solite cose Ma vanno continuate a dire Vanno continuate a dire Vanno continuate a dire Perché il portiere è molto scarso L'analistatica l'abbiamo fatta Iuri c'ha colpe Iuri c'ha colpe perché non l'ha preparata E di mentalità non ha avuto il cambio Neanche Né durante Non ha avuto il cambio Né mentre durante la partita Né cambio tattico Né tanto meno A fine primo tempo E non l'ha preparata neanche bene per il match Questo è grave Vanno a voto 4 Pamesli do io 5 Buongiorno 5 e mezzo Rodriguez 5 e mezzo Bellanova 4 e mezzo L'errore Ricci 4 e mezzo Linetti 5 Vevo da 6 meno 5 e mezzo Vlasic uguale 6 meno 5 e mezzo Poi dobbiamo fare anche un po' di proporzioni I voti Se andiamo per 4 e mezzo Zappata Zappata chiaramente 7 Il commento Il commento libero è la delusione Delusione perché Devi approcciare in un altro modo Stai partiti qua Sto facendo Rivedendo il gol del divano Devi approcciare in un altro modo Devi aggredire Devi martellare Devi Puoi non vincere Ma devi farlo In una Devo pareggiare Sto partita qua La pareggio Ma la pareggio in un altro modo La pareggio attaccando La pareggio provando Eccetera eccetera Non così male E la colpa oggi di tutti Di Juric Preparata male Ma anche i giocatori che in campo Devono scendere in un'altra cattiveria E in settimana Questa società deve far capire Quanto è importante Sto partita Adesso E' importante non sbaccare Perché al derby Deve arrivare con un minimo Di cognizione di causa E' importante Grazie a tutti.